Ciao bimbi, benvenuti a un lavoro creativo. Oggi vi mostrerò come creare uno squalo con il cartoncino. Ci serviranno colla stick, righello, pennarello azzurro blu, matita, farbici della punta arrotondata, un compasso, ma va benissimo anche qualsiasi cosa a cerchio, tempera bianca e azzurra, piattino, spugnetta, cotton fioc e infine cartoncino azzurro. Iniziamo a prendere il nostro cartoncino e con il compasso andiamo a fare un cerchio. Per misurare il nostro cerchio ci aiuteremo con un righello per calcolare il diametro. Io ho scelto un diametro di 9 cm. Vado a tracciarlo sul mio cartoncino, dopodiché vado a ritagliarlo con le forbici. A questo punto pieghiamo il nostro cerchio. Ora con la tempera andiamo a fare la pancia più chiara del nostro squalo. Prendiamo il nostro azzurro. Intanto che asciuga andiamo a fare la coda e le pinne. Riprendiamo il nostro cartoncino e con la matita andiamo a disegnarle. Andiamo a ritagliarle. una volta asciutto andiamo a incollare tutti gli elementi sullo squalo. con il pennarello vado a fare la bocca. dopodiché con la tempera bianca vado a fare i denti. Prendo il coton fioc, prendo un pochino di bianco e vado a fare i denti. ecco il risultato finale. ecco il risultato finale. ecco il risultato finale.